Sembra essere una fase di assestamento quella che riguarda i contagi da covid-19 in città e in provincia. Non superano i 50 contagi giornalieri, quelli che vengono contati a Caltanissetta, sono infatti 52 quelli registrati. Nelle ultime 24 ore 178 i pazienti positivi in tutta la provincia, dei quali 66 sono i pazienti gelesi. E intanto ci sono delle nuove dimissioni, tre pazienti, uno di Riesi, uno di Mazzarino, uno di Niscemi. I pazienti guariti a Caltanissetta sono 67 nelle ultime 24 ore. Ma i dati nel dettaglio ci raccontano come ancora si abbassano gli ingressi in ospedale. Da 48 di ieri si arriva a 47, sono invece stabili quelli in terapia intensiva. Sono sempre tre i pazienti ricoverati, due di Caltanissetta e uno un paziente proveniente da fuori provincia. Per i dati del capoluogo 617 sono i positivi in quarantena domiciliare, 16 sono i positivi ricoverati in malattie infettive, due come si diceva ricoverati in terapia intensiva. Si abbassa notevolmente anche il numero dei positivi in tutta la provincia. Sono 2.996 i ricoveri in quarantena domiciliare, tempi molto lontani dagli 11.000 di qualche mese addietro.